Io direi di andare a parlare però della parte cicciosa, quella che è la notizia della settimana scorsa, della Fed e di tutto quello che ha comportato sui mercati, cioè c'eravamo tanto amati lasciati con la Fed che Falco o Colomba sembra che sia una falcomba in questo momento perché ha lasciato i tassi fissi, non li ha toccati però sembra un po' più morbida nel suo atteggiamento. Assolutamente sì, ci eravamo lasciati la settimana scorsa dicendo proprio, dobbiamo aspettare le parole di Powell, vediamo che cosa succede, neanche a dirlo. Powell ha parlato, la Fed ha parlato, non c'è stato l'aumento di 25 punti base come molti si prospettavano, quindi i tassi rimangono al 550, vi condivido lo schermo giusto per farvi vedere un attimino che cosa è successo. Allora, aumento che non vi è stato, 5.5% di tassi di interesse da tre mesi a questa parte, quindi ormai ci troviamo di fronte ad una Fed che ha interrotto, e possiamo definirlo in maniera abbastanza convincente, salvo che poi ovviamente potrà aumentare in un futuro, i tassi di interesse e un Powell che ha detto, quasi cito letteralmente, facciamo fare i mercati, lasciamo fare i mercati e vediamo un attimino che cosa succede. Neanche a dirlo, i mercati che vanno a festeggiare in maniera anche abbastanza importante, di fatto quella di settimana scorsa è stata la settimana migliore per i mercati americani da inizio anno, nonostante comunque i dati non siano andati in positivo. Guarda, mi dai là, faccio un attimino un recap almeno sui dati americani, perché ci tengo a specificarla, eccolo qui. Questo è stato gli ultimi cinque giorni in America, si vede lo schermo? Aspetta, sì, ecco qua. Ok, sono stati gli ultimi cinque giorni con un S&P 500 che va in performance positiva di un 4,12%, Nasdaq il quale va a sovraperformare l'S&P 500 con un più 5,18%, e un VIX che si riporta, che scende in maniera importante e va a crollare praticamente dalla notizia poi di Powell, continua a crollare, fino ad arrivare allo stato attuale delle cose a 14,89 in pre-market a 15, ma comunque siamo a dei livelli estremamente bassi di volatilità dell'S&P 500. Ora, che cosa comporta questa notizia dal punto di vista dei mercati? Perché i mercati stanno festeggiando e neanche a dirlo il discorso di Euro-Dollaro e di quel che ne comporta. Perché i mercati festeggiano? Perché ci troviamo di fronte ad un Powell che ha probabilmente finalmente consentito a frenare in maniera importante questa grandissima cavalcata che ci portiamo dietro dal 2022 di aumento dei tassi di interesse, come abbiamo già detto e come ribadiamo. L'obiettivo della Fed è abbassare l'inflazione, un'inflazione che ha lo stato attuale delle cose ancora ben lontane dal 2%, anche se piano piano ci si sta arrivando. Un mercato del lavoro che ai dati della settimana sta screcchiolando, e adesso poi li guardiamo perché ci sono delle considerazioni che ci terrei a fare con voi. Tutto era nelle mani di un Powell che poteva valutare di aumentare oppure meno i tassi di interesse. Avendo deciso di interromperli, ha dato la conferma ai mercati che, e con le parole dette che sono ancora più importanti, ha dato la conferma ai mercati che, de fatto, ci troviamo di fronte ad una Fed che è molto meno hawkish, quindi molto meno falco rispetto a quella che ci si poteva aspettare. Per quale motivo mi ha dato i dati del lavoro, però, che non sono estremamente negativi? Vi ricondivido lo schermo così vi posso far vedere. Perché, in un momento questi sono i dati dell'inflazione, ne parliamo dopo, perché sono usciti altri dati nel corso della settimana che non sono così positivi come ci si può aspettare. ISM del settore manifatturiero, che come vi ricordo è il dato che va ad indicare le performance nel mese precedente del settore manifatturiero che si attesta ad un livello negativo, 46.7 contro delle previsioni che lo davano a 49. Vi ricordo che lo spartiacque è il livello 50, con il livello 50 che indica l'espansione economica, tutti i dati al di sotto del 50 alla contrazione economica, quindi continuiamo a vedere una contrazione economica in maniera abbastanza importante nel settore manifatturiero. stessa cosa per quanto riguarda il settore dei servizi che non convince, in quanto è vero che è uscito in positivo rispetto al livello 50, 51.8, ma comunque in negativo in quanto le previsioni erano al livello 53. Comunque c'è una risposta del mercato del lavoro che non è affatto positiva, anche per gioia di Powell. Dopodiché è uscito anche il non far payroll, che sono il numero delle buste paga del settore non agricolo, anche queste che vanno in diminuzione, l'avevamo guardato ai tempi, il numero si è attestato a 150.000 unità contro le 180.000 attese, quindi è andato comunque in negativo rispetto a quelle che erano le aspettative, e una disoccupazione che continua a rimanere, leggermente va a superare quelle che erano le attese, del 3.9 contro il 3.8. Quindi abbiamo un mercato del lavoro che ovviamente una settimana non fa statistica, ma è interessante vedere come vediamo finalmente un mercato del lavoro che rischia di scricchiolare un pochino rispetto a quello che ci siamo detti magari le settimane scorse, vedremo se questo scricchiolamento si consoliderà oppure se è stato semplicemente una sparata di fiamme e poi finirà come è cominciata. Questo è stato quello che è capitato. Pasquale, vuoi dire qualcosa? Sì, più che altro volevo dire che magari loro, visto che i dati li vedono prima di presentarli, molto probabilmente avevano già percepito tutto questo, cioè il fatto che l'aumento dei tassi stava funzionando in alcuni settori, quindi come dicevamo adesso anche sul lavoro, e magari era arrivato il momento di ricominciare a far rimacinare l'economia, però ovviamente sono solo supposizioni, nel senso non so fino a che punto loro abbiano il tatto, perché Paolo si è sempre dimostrato una persona, a mio parere rispetto ad altri governatori, un po' meno, a sentore, meno competente dei precedenti. Non so come l'hai percepito mai tu. Cioè, non tanto incompetente quanto non proprio sicuro di quello che sarebbe dovuto essere fatto. Sai che invece ho una visione estremamente opposta rispetto alla tua, premessa per chi ci ascolta, non è Powell che decide, nel senso che Powell è solamente la testa di tutto un entourage molto importante di decisori. Non dico che non abbia fatto degli errori, assolutamente. Tutto ciò che è successo pre-2022, nella riprova, ci siamo ritrovati in una situazione di una Fed che, helicopter money, quindi tutti quanti liquidità, poi di guardate che l'inflazione è transitoria, per poi dire che l'inflazione è permanente, per poi cominciare ad alzare i tassi. Sì, sono state fatte una serie di cappellate, possiamo dirle in questo modo, definirlo incompetente, però guarda, sinceramente, Pasquale, questo non lo so. Infatti, non è che, non ho detto incompetente, però sembrava che a volte non sapesse cosa fare, cioè, è vero che, come dici tu, c'è un entourage, sono 12 o 14 persone, se non ricordo male, che vanno a decidere, però alla fine il capoccia è lui, perché è lui che prende la responsabilità a un po' delle cose. Posso farti vedere quelle altre cose che sono successe nel frattempo, prima di, usciamo un attimino dalla sfera americana, perché è interessante, molto più, molto meno, scusate, impattante a livello mondiale, ci mancherebbe, ma comunque è interessante vedere la banca, la BOE, la Bank of England, che anch'essa, per il terzo mese consecutivo, va a bloccare il suo aumento dei tassi, e come abbiamo già detto più di una volta, la Fed è stata anticipatrice rispetto a quello che sono tutte quante un po' le banche, adesso vediamo un attimino come si muoverà la BCE, che è l'altro grande pilastro, che soprattutto per noi è interessante, ma comunque degno di rinota il fatto che la Bank of England ha deciso di interrompere il suo aumento, premandosi al 5,25 per il terzo mese, e altri due dati interessanti, invece, è lato inflazione, che sono usciti in Europa, zona Euro, il dato dell'inflazione, che tocca il 2,9%, contro anche delle aspettative che lo davano al 3,1%, mi raccomando, da che cosa deriva, questo lo ripeto sempre, da che cosa deriva questa grande discesa, non è che adesso torniamo al 2% subito, deriva dal fatto che un anno fa ci siamo ritrovati con un grande aumento, un grande balzo, quindi è una cosa normale che c'è stata la grande diminuzione, perché il dato sul Consumer Price Index e su base annuale funziona in questo modo. Per quanto riguarda piccola gioia per gli italiani, piccola gioia per gli italiani, il dato dell'inflazione in Italia fa un colpo di coda e scende all'1,8%, un 1,8%, quindi al di sotto di quella che è stata la media europea, anche qui, che deriva da un grande innalzamento che c'è stato l'anno prima, ma comunque piccolo traguardo nazionale, questo si deve dire. Può anche essere, perché poi nel CPI, nell'inflazione, diventano anche i carburanti, può essere anche il fatto di aver esposto il prezzo medio che ha un po' messo in tensione i gestori, ha fatto abbassare un po' il prezzo, oppure… Non ho guardato, sinceramente, poi in caso lo riguardiamo, non ho guardato la componente del… perché eravamo leggermente presi con la Fed, il carburante, così come non ho guardato dei beni energetici nel complessivo, preferisco… magari prima lo guardiamo e poi dopo posso darti una risposta su questo. Comunque se si va a guardare per chi potesse essere interessato, sui dati del Consumer Price Index, lasciati dall'Europa, c'è tutto quanto il diagramma, dove si fa vedere effettivamente quanto pesano i vari asset e quanto hanno impattato i vari asset, come si sono… Sì, quello sì. Prima di passare ai mercati, giusto il nostro amico Covidozia ci lascia due altri commenti, l'evento meno grave che può avverarsi è il ridimensionamento della forza lavoro, gli americani sono messi in questo e gli investitori apprezzerebbero. Poi continua, ma sì, tanto chi perde il lavoro avrà sicuramente aiuto dallo Stato, con Cassi e decreti in alto diventano una babbia, questa è la battuta. Però in linea di massima ha ragione, nel senso che il mercato americano è molto più flessibile e anche se perde forza lavoro la recupera anche con maggiore flessibilità e facilità. Ovviamente, questo è assolutamente vero, gli americani non sono gli europei, hanno proprio un concetto del mondo del lavoro estremamente diverso, persone che, come abbiamo già detto, hanno proprio un modo superandi di chiusura dei posti di lavoro, riapertura dei posti di lavoro, riapertura delle aziende, dei sui siti fiscali, è tutta una serie di cose molto più libero rispetto a quello di noi italiani, di noi italiani o comunque in generale noi europei, quindi per cui in realtà è assolutamente corretto. Bisogna avere un attimino e sperare, dato che ci troviamo in un contesto così mobile, possiamo dire così, evitare la grande recessione che alcuni potrebbero andare a dire. Poi sarà interessante vedere se effettivamente questa recessione ci sarà oppure non ci sarà al prossimo anno, quello sarà interessante vederlo. E' interessante vederlo. E' interessante vederlo. a Grazie a tutti.